Siamo ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi si entra ufficialmente nel vivo della stagione Iniziano le partite, solamente partite Quest'oggi partiremo veramente col volto Perché affronteremo innanzitutto la Juventus Poi abbiamo la Cremonese E dopo ancora sfida contro i Napoli Quindi raga partiamo subito, mille all'ora E sicuramente sono subito tre partite molto importanti Per capire effettivamente a che livello siamo Per il momento abbiamo fatto due vittorie su due Visto che siamo partiti bene in campionato Però ovvio che adesso affrontando queste squadre più forti Vediamo un po' di che pasta siamo fatti Ma come al solito raga prima di incominciare a giocare Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale Per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità E assicurimi sulla pagina di Instagram il link del profilo E come sempre in descrizione E anche a sostenere il canale con una donazione Tramite il link che si trova in descrizione Fatto il solito preambolo possiamo andare in campo Genova-Juventus Per il momento siamo sopra anche ai bianconeri Perché loro hanno fatto una vittoria e un pareggio Quindi noi due vittorie su due Quindi siamo attualmente più forti in un certo senso Comunque ragazzi ovviamente miglior formazione possibile Attenzione alla squadra della Juventus Con Scesini fra i pali Poi Acugna, Tapsoba, Bonucci e Traoree Capitano addirittura Non credo sia Dama Traoree Non so quale Traoree potrebbe essere sinceramente Comunque c'è troppo con Artur, Merkel e Uribe Un attacco addirittura a Federico Chiesa Blaovic e Coluseschi Che è tornato da prestito dal Tottenham Ma purtroppo FIFA li considera sempre prestiti E quindi i giocatori ritornano sempre Nel senso li considera sempre prestiti Senza diciamo diritti, obbligo Obblichi vari per il riscatto Comunque vabbè Ovviamente non c'è problema Affrontiamo chiunque Ragazzi possiamo ripartire C'è un po' di spazio Qui Guller prova a far correre Nusa Che deve correre Forza Nusa Dai che sei veloce Dai che sei veloce Prova il destro Nusa Arriva la parata di Scesini Ragazzi sarà questa qui la nostra partita Tutta in contropiede È l'unico modo Occhio Qui la prima azione pericolosa Della Juventus È arrivato il tiro Non ho capito neanche di chi Comunque para Il nostro Koye E attenzione Il tiro potente di Blaovic Questo qui effettivamente Era un tiro potente Anzi potentissimo Addirittura Beffato sul primo palo Koye Tanto che era forte questo tiro Comunque Arriva il primo col subito della stagione Perché per il momento Eravamo ancora in battuti Qui c'era anche Bassi E avanti Era difficile per il portiere Occhio Shashua Prova a far correre Nusa Che mette palla a terra E va Nusa Vidiou Che peccato Avevo visto subito L'inserimento Di Guler Comunque Traorei con l'H Ma non sarà mai Giugno Traorei Stava effettivamente a Sassuola La scorsa puntata Comunque qui Occhio a calcio d'angolo Scalvini Arriva il miracolo Da parte di Scesni Che peccato Riproviamoci subito Da quest'altra parte Ancora con Guler Stavolta Verso Bassi E ancora il miracolo Di Scesni Ok raga Tremendo anche il primo tempo 1-0 Per i bianconieri All'intervallo Bianconieri che quest'anno Non sono tornati ad essere La Juventus E non più Il Piemonte calcio Peccato Ormai già mi ero abituato Comunque Andiamo alla ripresa E cerchiamo Almeno di agguantare Il pareggio Abbiamo fatto vedere Che possiamo far male A questa Juventus Dai Ma occhio Ancora Do San Blauic Un altro tiro da fuori area Stavolta riesce a parare Okoyer Raga Occhio a Sassuola Qui riesce a passare Servire Nusa Il tocco Attenzione Dentro per Guler Qui era riuscito a calciare Ma la palla respinta Qui Ottima chance Peccato Servirebbero anche Delle sostituzioni Adesso E occhio che possiamo Proverare ad avanzare Abbiamo un po' di campo Con Guler Che deve prenderselo Forza Guler Dai Guler Prova da Zalla Verso Fatavu Col sinistro Che sbaglia tutto Incredibile Raga Avevo detto che volevo Volevo fare i cambi La palla esce solamente adesso Facciamoli sti cambi Allora raga Come al solito Cambio tutto l'attacco Quindi dentro Escharau Eeguban E Luca Romero Poi dentro Gudumunson Al posto di Guler E Busio Per friend group Classici cambi E occhio ragazzi Escharau Prova da centrarsi Escharau Ha provato A mettersi in proprio Qui il faraone Appena messo in campo Si dispara Effettivamente Era un'ottima chance E niente raga Purtroppo Ormai non c'è più tempo Concludi in attacco La Juventus Che potrebbe segnare Addirittura il gol Del 2-0 Che per quello che si è visto Sarebbe effettivamente Inmeritato Che riusciamo A non subire Il secondo gol Però purtroppo Arriva la prima sconfitta Stagionale Perdiamo Tra piccolette Solamente 1-0 Contro La Juventus Che ovvio ragazzi Ci potrebbe anche stare Dispiace sempre perdere Perché Uno non vorrebbe Mai perdere punti Ovviamente Comunque ragazzi Sicuramente Usciamo a testa alta Ok ragazzi È passata Un'altra settimana Adesso è il momento Di scendere in campo Contro la Cremonese Ovviamente ragazzi Adesso abbiamo perso In un certo senso Il primo posto Che era a pari punti Con altre tre squadre Comunque ragazzi È normale Restiamo ovviamente A 6 punti Adesso è una partita Molto importante Contro la Cremonese Che è da vincere Ad ogni costo Perché è vero Che siamo in trasferta Però comunque La Cremonese La considero Una squadra Da battere Quindi Cerchiamo di andare in campo Con questa squadra Ovviamente ho fatto Qualche cambio Soprattutto perché Fra tre giorni C'è il Napoli Quindi visto che Diciamo Voglio dar fiducia Alla squadra Provo A ruotare Un po' Le carte in tavola No ragazzi Non ci credo Che gol Che abbiamo subito Non è possibile Se iniziamo a subire Sti gol Vuol dire che inizia Veramente una Dura fase Di campionato Qui Era andato Scalvino A prendere palla Non la libera subito Prova addirittura A controllarla Questa qui È una cosa che Tu giocatore Puoi farci poco Tu che controlli Il giocatore Puoi farci poco Purtroppo Alla fine Oscar Plano Non può fare altro Che appoggiare il pallone In porta Ok ragazzi Luca Romero Ha un po' di spazio Prova a prenderselo Soprattutto Vedi l'inserimento Ottimo Da parte di Grunna Che prova a calciare Grunna Prende il pallone esterno Subito La chance Per pareggiarla Ma Grunna Se lo mangia E occhio Non so D'appoggio Per Shashua Che si gira La grande Shashua Che cosa aveva fatto Qui in un fazzoletto È riuscito a girarsi Riesce anche a calciare Addirittura Rimessa dal fondo Evidentemente Era un rimpallo sfortunato Occhio Grunna Dentro Nusa Può girarsi A calciare Niente Qui ha provato A metterla Sul primo palo Arriva ancora Un brutto errore Da parte nostra Occhio ragazzi Ancora La Cremonese Vabbè ragazzi Dai Ogni volta che fanno Sto tiro potente Devono segnare 2-0 Sicuramente Inmeritato Da parte della Cremonese Alla fine Stiamo giocando Noi non riusciamo A concretizzare Però sicuramente 2-0 È un passivo Troppo pesante Qui in usa Di prepotenza Arriva in area Riesce anche a calciare Ma pare al portiere E occhio al corner C'è Grunna Che prova ad andare dentro Il portiere è riuscito a vuoto Ma ovviamente Arriva alla traversa Occhio ancora Alla Cremonese In area Niente ragazzi Contropiede 3-0 Asfaltati Già al primo tempo Ovviamente Occhio rega Che si sblocca Con noi Alla quarta giornata Non c'è problema Qua ragazzi Però vincono tutti I rimpalli Questa partita È anche un po' Scriptatuccia Però Sicuramente Non stiamo giocando bene Meritiamo di perdere Non sento La mia squadra Come dovrei sentirlo È vero che ho fatto Dei cambi Però non mi aspettavo Questa prestazione Sinceramente E se con la Juve La sconfitta Ci poteva stare L'1-0 È vero che era in casa Però comunque Perdere con la Juve Ci poteva stare Qua già sicuramente Questa sconfitta Ci ridimensiona Abbastanza Adesso nel secondo tempo Sinceramente provo a mettere Non dico quelli buoni Però ovviamente I titolari Che poi alla fine Sono solo tre Cioè Levo Serdemir Che sinceramente Serdemir Non meriterebbe neanche Di uscire Quindi lo lascio Per il momento Levo anche Nusa Perché si stanca subito E Si è mangiato Un gola Bastanza Clamoroso Quindi mettiamo subito Il faraone Proviamo così Dai Faccio ragazzi Shashua Uno contro uno Con Aivu Attenzione Shashua Prova a passare Vedi l'arrivo di Guler Ragazzi Non ci mangiamo pure questa Non ci mangiamo pure questa E ce lo siamo mangiati Bravissimi Scalvini Gran chiusura Occhio Shashua Subito per Guler Che la appoggia Verso Fatavo Arriva il miracolo Di Lotka E occhio al corner Verso Scalvini Che riesce ancora a colpire Però Si salva il portiere Occhio qui Messa malissimo La nostra squadra 4-0 Mamma mia Asfaltate Completamente Crollati Veramente È una partita storta Che non puoi farci nulla Però siamo veramente Crollati In un bicchier d'acqua Ci siamo Veramente Non lo so Forse La mancanza di FT Ma boh Cioè comunque Zappa Ha sempre fatto bene Guardate qui Cioè non Non gioca Zappa Zappa Non c'è Occhio Escharawi Escharawi Almeno Arriva Il gol Di Fatawi Sagu Almeno Togliamo Quello 0 Dal tabellino Guler Può avanzare Attenzione Guler 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 Mamma mia ragazzi Ma perché Ma Niente ragazzi 6-1 6-1 Ma la difesa Veramente Non c'era Cioè Zappa E Banni Si vede proprio Che non giocavano Da abbastanza tempo Comunque non giocavano Dall'anno scorso E che erano Alla prima partita Stagionale Veramente Imbarazzanti Non riuscivano Non riuscivano Non riescono A tenere La linea difensiva Veramente Boh E mi inquieta Questa partita Perché è vero Che ogni tiro Che hanno fatto È stato gol Per loro Però A parte tutto È la prima volta Che mi gioca così La squadra Gol Gol Del 6-2 Segna Shashua E niente ragazzi Rimini da quella partita 6-2 Per la Cremonese Veramente Non so Darmi spiegazione Veramente Preoccupante A tratti Questa sconfitta Spero che sia Semplicemente Una questione Della Cremonese Che doveva vincere In un certo senso Noi abbiamo fatto La nostra solida partita Comunque A meno a livello Di statistiche Però si vedeva proprio Che non potevamo Fare nulla Cioè nel senso Abbiamo giocato male Cioè si vede Si sentiva forse L'assenza Dei giocatori Più importanti O come sto per dire Forse semplicemente Una questione Della Cremonese Che tipo il Cagliari Degli anni scorsi È una squadra imbattibile Spero che sia così Perché pure con la Juve Non percepivo le stesse cose Cioè con la Juve Con la Juve sentivo La forza avversaria Ma mentre giocavano Loro Invece Ho sentito Una debolezza mia Una debolezza Della mia squadra Che Veramente Sembravano stupidi Soprattutto In difesa Io spero Semplicemente Perché ho fatto Turnover E ovviamente A questo punto L'unica cosa Che possiamo fare È continuare a giocare Napoli Prima in classifica 12 punti 4 su 4 Noi siamo scesi Ovviamente All'undicesimo posto Le prime due giornate Non avevamo subito Un gol Adesso FIFA Diciamo che Ci ha rimessi Subito a posto Seguendo i nostri Classici standard Purtroppo Comunque ovviamente Napoli Unica squadra A punteggio pieno Ed è la nostra Prossima avversaria Che affronteremo Con dei cambi Visto che Avendo giocato Solamente tre giorni fa Era stancho Il resto della squadra Quindi ho dovuto Fare delle modifiche Sempre Okoye Frepali Poi Aude Bassi Bamba FT Friendrup Busio Guler E Sharawi Ecuban Fatawi Sagù Non dico che voglio vincere Non dico che voglio Pareggiare Ma mi aspetto Sicuramente Una reazione Iocio Guler Prova a far correre subito Assist del faraone Goal Del nostro Numero 10 Che sicuramente Lo considero Il migliore Attualmente Mi sembra quello Che è partito meglio Cioè intendo ovviamente Non per questa partita Perché è ovvio Ha segnato Però dico proprio Da inizio stagione Lo vedo Quello più lucido Non lo so Quello che effettivamente Si vede Che è un potenziale Fuoriclassico Attenzione ancora Palla nostra C'è Guler Prova verso Fatavuno Qui è esagerato Ma occhio Qui alla risposta Del Napoli Con Zambonghissà Miracolo Da parte di Okoye Miracolo Anche della sedia Che prima o poi Smetterà di far rumore Qui bravissimo Bassi Attenzione Guler No Brutto pallone perso Bruttissimo Bruttissimo Pallone perso Aude Bravo subito Aude Che deve mettersi in mostra Faravone Sciarabile Tiene lì Attenzione Ecco Peccato Ehi no No ragazzi Ma perché Devo subire sempre Sti gol strani La stessa cosa Successa pure Con la Cremonese Quel primo gol Allora Qui il cross Bello E qui Aude Che prova Perché non fanno mai Le cose di prima E questo è il problema loro Il problema di FIFA Qui Aude Che prova a tenere Un pallone impossibile Arriva il gol Chi è? Di Oscar Che diciamo È fisso Che vada a Napoli Sono tre FIFA Che ogni anno O Scarva Al Napoli Comunque niente Che vi devo dire E Occio Bucio Rispondiamo subito Con Guler Che prova a calciare Sul primo palo Para Remiro E Occio Al corner Proprio con Guler Che va verso Ecubon Ecubon 2-1 Torniamo in vantaggio Segna Il bomber Ecubon Il record breaker Della serie B Ecubon Che da calcio d'angolo È veramente letale Evidentemente Anche più di basse Perché se mi mettono Lui sul primo palo Vuol dire Che effettivamente È più letale Lui È più pericoloso Lui Infatti Si è visto subito 2-1 Torniamo in vantaggio Partì la scoppiettante Per il momento E Occio Guler C'è Fatavu Che può andare Fatavu Aspetta 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 Il faraone Saravi Che calcio Vai Fatavu Ecco Ho provato il pallonetto Ho premuto due volte Il tasso del tiro Però Peccato Diciamo che l'occasione Era più per il faraone Ma occhio Simen Qui dal limite dell'aria Spara la bomba Ma Occhio Gli dice di no Fra nigeriano Nigeriano Praticamente Ma occhio Elmas Prova ancora il Napoli Attenzione Ancora Oscar Ma ardentro E arriva Il pareggio Con Carson Ok c'è ragazzi E Cubana Prova a correre Fatavissacu Attenzione La palla è buona Fatavissacu Uhuhuhu Uhuhuhu Frendrup Si torna Di nuovo In vantaggio Immediatamente Segna Addirittura Frendrup Che va A prendersi La gioia Dei tifosi Clamoroso Questo gol di Frendrup Perché ragazzi Ancora una volta In Napoli Si è fatto trovare Scoperto in contropiede Soffrono Le ripartenze Non le soffrono Friva, la Cremonese, ma invece il Napoli proprio le soffre da impazzire la logica di FIFA. Comunque, 3-2, 5 gol in appena 40 minuti, la classica logica di FIFA, 2.0. Ma occhio qui al Napoli, Zielischi, non è fuori gioco, prova il pallonetto, ma Okoye capisce tutto e resta in piedi. Attenzione però Giancaro Scar, sempre pericolosissimo, è il massedentro, Simen, Okoye, attenzione, Carlson, che alla fine guadagna il calcio d'angolo in un certo senso. Attenzione, calcio d'angolo per il Napoli, a tempo potentemente scaduto, la palla è uscita con il tempo già scaduto. Frendrup libera, arbitro, 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 madonna FIFA, madonna FIFA, altro che arbitro, qui è FIFA, se pareggiano in pazzisco. Il tiro è respinto da Bassi, questo ancora che non fischia, no, non è possibile, non è vero. Palla fuori, grazie, 5 minuti dopo, classico FIFA. Comunque, termine primo tempo, 3-2 per noi, escerà, vi sta facendo il partitone, sta giocando proprio bene. Quindi ragazzi, abbiamo perso con la Cremonese, cerchiamo di guadagnare i punti a meno con il Napoli. Cioè nel senso, siamo costretti perché dopo due sconfitte consecutive, in qualche modo devi portare i punti a casa, ecco. Attenzione, attenzione, attenzione. Gol, Napoli, 3-3, Elmas. Eh, Ecuban, cosa ha fatto? Ecuban, 4-3. Ragazzi, non ha senso questo gioco, 4-3, torniamo ancora subito in vantaggio. Camoroso, errore difensivo di Ignacio, mi sembra, che il difensore centrale di piede sinistro, molto interessante. Sì, dovrebbe essere lui il numero 5. Ecuban, che ovviamente, con il pressing, è un maestro, e poi col sinistro non può sbagliare. 4-3, bene. Comunque, ragazzi, è evidente che si è stappato il gioco. Diciamo, se le prime tre partite erano estremamente coerenti, 1-0, 2-0. Si ha, diciamo, sconfitte e vittorie, 1-0, 2-0. Adesso, 6-2. Quasi 4-4, che sta per arrivare. Ma arriva il miracolo di Bassei e di Okoye. Sicuramente arriverà il 4-4. Ma... Fuorigioco! Ma era fuorigioco quello di chi era? Carlson, Zierischi? Mi sembrava netto fuorigioco, perciò... Diciamo, non sono stati... E qui, era fuorigioco. Di Carlson, poi si me insegna. A me sembrava nettamente fuorigioco. E invece no, raga. Bamba non sale. C'è sempre uno che non sale. Fuorigioco è fatto malissimo da FIFA, purtroppo. Comunque, 4-4. Bene. Occhio, ragazzi, possiamo ancora avanzare. Guler a campo. Guler, toccalo ancora per Ekuban. Che spazio? Ekuban col sinistro. Stavolta arriva la parata del portiere, peccato. Occhio. Ekuban riesce a seguire Fatavu. Attenzione, Fatavu. Fatavu. La piazza col sinistro, anche di potenza. Para ancora Rimiro. Cambi. Allora, ragazzi, dentro Nusa, al posto di Sharawi. Luca Romero al posto di Fatavu Isaku. E in campo anche Gudumson per Guler. Speriamo che i giocatori freschi possano fare la differenza. Occhio, no, Anghissac. Qui prova il sinistro da fuori aria. Parata del nostro portierone. Dai, ragazzi, occhio. E ovviamente Osimène liberissimo. Con i miei giocatori che andavano totalmente da un'altra parte. Fantastico. Arriva il gol del 5-4 che, ovviamente, porta in vantaggio la squadra partenopea. Comunque, prima volta che vedo la marcatura a uomo, come se avessero fatto uno schema. Non so se avete fatto caso. Lì si sono spostati tutti i giocatori del Napoli. Ovviamente i miei andavano a uomo senza che io potessi scegliere una cosa del genere. Perché, ovviamente, non è che ti fai scegliere marcatura a uomo, ma marcatura a zona. Intanto, attenzione ancora. Ecuban. Ecuban. Tocca, tocca, tocca. Tocca, per Nusa, che non può sbagliare. 5-5. Prenditi il pallone. Prenditi il pallone, Nusa. 5-5. Dunque, vabbè, ragazzi, questa qui è una partita che devi finire con 7 gol a testa. No, madonna qui la palla salvata. Chi è ancora Aude? No, era FT. Che ci faceva da quell'altra parte? Comunque, è arrivato un miracolo, veramente. Oggi che non riusciamo più a tenere palla. Questi devono fare il 6-5. Questa è persa. FIFA ce la fa perdere. Occhio, occhio, attenzione. Basse, è qui un altro intervento miracoloso. Dai, ragazzi, almeno teniamoci il pareggio. Il cross di nuovo. Stavolta, coie salva. Madonna, la difesa completamente a caso. Non ho capito che è successo. Dopo la partita con la Juve è completamente morto il gioco. È completamente... Si è completamente spento. Comunque, finisce 5-5. Una partita totalmente senza senso. Comunque, siamo sulla giostra. Facciamo contento FIFA. Siamo riusciti comunque a fermare la capolista. Facciamo finta che effettivamente è un pareggio e basta. 5-5 non c'è senso, però, ragazzi, io non posso farci nulla. Io gioco e provo a vincere. Poi, se succedono queste cose, dobbiamo semplicemente prendercele e andare avanti. E, ovviamente, raga, poi, come se non bastasse, abbiamo anche la partita contro l'Inter. La squadra stanca. Piccola nota a margine. Aude contro il Napoli. Ovviamente ha fatto veramente un'ottima partita. Molto roccioso. Nelle chiusure era veramente solido. Andava sempre a uomo. Marcava bene. Mi è piaciuto. Sicuramente ottima partita da parte sua. Comunque, ragazzi, come hai detto, prossima puntata che inizierà con l'Inter. Non riesco a guardarlo il calendario perché, ragazzi, fa troppo ridere. 6-2 che perdi con la Cremonese. Poi 5-5 con Napoli. Vabbè. Inter-Monza. Super Monza. E partita anche con la Roma. Purtroppo, ragazzi. Io spero sempre di avere meno partite possibili. Però vedo qua tre partite in una settimana. E vabbè, ragazzi. Sicuramente bisogna essere più bravi a dosare le energie che, infatti, ragazzi, dopo questa partita. Quanti giorni sono passati? Fatemi vedere. Sono passati. Tre giorni. Abbiamo la squadra molto stanca. C'è stato anche un allenamento in mezzo. Però alla fine conta poco. E vabbè, ragazzi. Diciamo. Bisognerà provare a migliorare anche con la resistenza, per così dire. Comunque, ragazzi. Io per oggi posso fare un amico qua. È stata una puntata molto scoppiettante. Purtroppo si perde un po' il realismo. Perché è ovvio che tu fai il mercato. Che cerchi di essere veramente più realistico possibile. Penso di aver fatto un ottimo mercato. Con acquisti molto mirati. Anche le cessioni. E poi vai in campo. Giochi queste partite. E succede quello che succede. Comunque, ragazzi. Come detto prima. Restiamo sulla giostra di FIFA. Magari era semplicemente una questione che ho fatto dei cambi. Non ho giocato con la squadra di titolare. Perché, ragazzi. Completamente partite differenti. Sia gli avversari che i miei giocatori. Perché, appunto, ragazzi. La partita persa con la Juve. Con la migliore squadra possibile, tra virgolette. Appunto, con la Juve. L'abbiamo persa. Ma l'è giocato bene. Ci stava. È difeso comunque bene. Concesso solamente un gol. Potevi subirne altri. Ma allo stesso tempo potevi farne. Anche più di uno. Quindi, era una partita estremamente realistica. Che ci stava. Perché, appunto, già era una squadra che sale appena dalla Serie A. Spinta dall'entusiasmo del pubblico del Ferraris. Ci sta. Che perde. Solamente, tra virgolette, 1-0 in casa. Con la Juventus. Poi, settimana dopo, andiamo a Cremona. E si spezza l'incantissimo del realismo. Grazie FIFA, come sempre. Comunque, ragazzi. Io, per l'appunto, per oggi. Posso frenarmi qua. Vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivervi al canale, iscrivervi sulla pagina Instagram. E a sostenere il canale tramite una donazione con il link che si trova in descrizione. Noi ci vediamo. Alla prossima. E ciao a tutti.